Il castello monumentale San Giorgio di Leric riapre i battenti con un nuovo contenuto museale dedicato alla storia del maniero stesso e alle vicende e personaggi che hanno animato il golfo nel corso dei secoli successivi alla sua costruzione. Da sabato 2 marzo sarà quindi possibile visitare il castello, cogliendo appieno gli aspetti storici e culturali che ne hanno influenzato la costruzione e la vita del borgo grazie ad un percorso museale rinnovato, moderno e coinvolgente capace di offrire al visitatore un'esperienza immersiva. Video museali che raccontano la struttura architettonica, le tradizioni popolari e anche la storia recente del castello. Digitalizzazione degli ambienti e loro reinterpretazione in chiave artistica, quadri parlanti per dare vita e voce a personaggi storici che hanno calcato il suolo lericino. Proiezioni, modello architettonico e foto storiche sono gli elementi del nuovo contenuto museale che permetteranno al visitatore di comprendere l'evoluzione storica del maniero e del paese. Sabato 2 marzo alle 10.30 l'inaugurazione che varrà anche il nuovo orario e tarifario consultabile sul sito di Leric Cost. Nel corso dell'evento il curatore Joshua Pagano terrà una presentazione guidata ed esclusiva dei nuovi contenuti permanenti durante la quale sarà possibile conoscere alcuni dei personaggi che hanno scritto la storia del maniero, da Andrea Doria a Sebastiano Biaggini a personaggi della storia catturati e imprigionati al castello come il re di Francia Francesco I, catturato dopo la battaglia di Pavia nel 1525, fino a Maddalena di Carlo, ma di l'ultima castellana.